Antonio Capozzo non protagonista nei rigori, però protagonista durante i 40 minuti. Bertone ha rivisto Le streghe, poi invece è finita in gioia. Insomma, l'anno scorso è sfuggito per poco, adesso quest'anno c'è. A puffer, a raggede, on your side, reverie, here in the arms of the angel, may you find some comfort in me. A puffer, a raggede, here in the arms of the angel, may you find some comfort in me. A puffer, a raggede, here in the arms of the angel, may you find some comfort in me. A puffer, a raggede, here in the arms of the angel, may you find some comfort in you, may you find some music.